Direttamente dalla Sagra del Tordomatto Magica, benvenuti ad un nuovo video. In questo nuovo video recensiremo e assaggeremo anche la pasta al Tordomatto. L'ho pagata 6 euro, non so quanti grammi saranno. Ora prendiamo una portetta e coltello per assaggiarla subito, per vedere come è questa pasta al Tordomatto. Buona, potranno 10 dare un 9, che dire, niente, ci vediamo alla prossima.